l'apocalisse zombie non è un pranzo di gala e si combatte un dei congito alla volta allora eugenio qualche giorno fa in preparazione a questa live io ho scritto nella mia community di persone molto affiliate e molto affidate ragazzi la settimana prossima ci sarà da noi un filosofo vicentino che parla spesso di argomentazione la risposta è stata quindi fai una cogitata col te stesso nel 2017 e ho pensato uno siete dei pezzi di merda perché mi fate sentire vecchio e io non sono vecchio due cazzo è vero sono il fantasma del daily cogito passato il fantasma del daily cogito passato benvenuto al cogito studio scala un piacere averti qua sono molto contento allora in primo luogo perché ormai possiamo dire che vicenza è un covo di vicentini cioè nel senso allora fabio grigenti perché sia un covo di vicentini è sicuro di filosofi vicentini sono fuso sono ormai alla fine la stagione sta finendo e sono finito prima della stagione no diciamo è un covo di filosofi perché fabio grigenti c'era franco volpi io cattani te quindi insomma è interessante bisogna cominciare a fare una sorta di Avengers Avengers della filosofia vicentina anche perché dobbiamo combattere un po questa questa nomea dei magna gatti qualche tempo fa sono stato giù in sicilia e un siciliano mi ha detto ah vicentino magna gatti no cazzo ma no anche in sicilia come stai caro come vanno molto bene molto bene dai sono pieno di progetti quindi bene molto bene molto bene allora magari ci sono le persone qui che stanno seguendo che non ti conoscono quindi com'è che ti presenteresti è molto difficile perché tutte le persone hanno tante tanti latino contengono moltitudini scegli alcuni scegli una porzione diciamo che online ho dei profili social che sono noti con il nome di white whale caffè che è questo progetto che parla di di filosofia e di argomentazione di filosofia quindi di argomentazione perché è nato questo progetto principalmente perché mi sono reso conto un po lavorando nel mondo della comunicazione frequentando i social per lavoro ma non solo i social anche un po le persone e gli ambienti della cittadinanza che la maggior parte non so se la maggior parte ma molti dei problemi che noi oggi abbiamo nella nostra vita di individui e di società dipendono dal declino del dibattito pubblico dipendono dal fatto che non siamo più in grado di argomentare bene una tesi e soprattutto di affrontare un dialogo in maniera costruttiva e quindi ho detto bisogna fare qualcosa quindi bisogna cercare di portare qualche competenza in più su questa materia estremamente importante che è relegata a delle aule università di frequentate solo da alcuni studenti che fanno un'università alcune facoltà universitaria e che invece dovrebbe riguardare chiunque nella sua vita nella sua giornata parla assolutamente assolutamente io ho seguito tanti tuoi video e mi sono accorto che tu parli molto spesso anche del modo con cui l'informazione non riesce più a recepire la necessità di creare le condizioni per un buon dibattito e c'è questo paradosso da cui vorrei partire a discutere con te perché io trovo molto paradossale che siamo nell'epoca dove informazioni complesse possono diventare molto più capillari che in passato infatti non sarebbe mai stato pensabile 30 anni fa che persone come noi riuscissero ad arrivare a un pubblico comunque così vasto ok però dall'altra parte ti accorgi ogni giorno di quanto l'appiattimento di quella complessità sia all'ordine del giorno quindi c'è questo duplice movimento in cui da un lato tu hai un mondo sempre più interessato a cose concrete di informazioni di approfondimento non ci sono mai state così tante persone che chiedono informazione di qualità dall'altro lato se ampli un po lo sguardo ti accorgi che in realtà questo potrebbe essere anche legato a una prospettiva una nicchia in cui noi siamo perché poi nei mainstream sui giornali l'appiattimento e il depauperamento del dibattito pubblico è sempre più forte tu com'è che vedi e vivi questo questa spaccatura allora io penso che noi abbiamo avuto nella nostra vita a un certo punto questo avvento dei social e di internet che è stata veramente la quarta rivoluzione non come dice luciano floridi è una cosa così grossa che ci ha in qualche modo sfondato le difese immunitarie quindi in qualche modo così come come quando è nata la televisione così come quando è nata la stampa tutti i nuovi mezzi di comunicazione grossi portano secondo me dei grossi cambiamenti che all'inizio non abbiamo le difese immunitarie per gestirli quindi all'inizio diventano un luogo sì in cui tutti possono mettersi mettersi in gioco broadcast yourself ma dall'altro lato dove c'è anche tanta disinformazione tanto memismo tante cazzate che ogni giorno vengono pubblicate io forse sono troppo ottimista però credo che negli ultimi dieci anni i social perlomeno che ci sono da molto tempo tolto facebook si stia un po creando anche una una comunità di divulgazione di informazione fatta meglio rispetto che in passato purtroppo rimane questa cosa che però secondo me è vecchia come vecchio l'uomo che da un lato noi sappiamo utilizzare la comunicazione la parola per costruire le civiltà dall'altro lato questa parola è lo strumento migliore per distruggere le civiltà assolutamente assolutamente sta creando diciamo io credo che si stiano creando delle nicchie medio piccole molto molto verticali su tanti temi ok c'è la nicchia non so io seguo tanta astronomia seguo divulgatori che parlano di spazio cosmo perché mi piace mi accorgo ci sono delle 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 nicchie di pubblico parliamo di comunque nicchie che possono essere nell'ordine di due trecentomila persone quindi comunque nicchie abbastanza grosse che sono molto verticali su quello così come esistono nicchie nell'argomentazione nella filosofia ci sono gruppi facebook e via dicendo di filosofia molto nutriti in cui però quello che mi sembra mancare sia lo sguardo di insieme cioè il fatto che io sono all'interno di una community di persone molto dentro l'astronomia o la chimica però devo ricordarmi che c'è comunque un mondo in connessione a quello che io tratto che esula dalle mie conoscenze e questo secondo me è l'opportunità il pericolo l'opportunità di trovare tante persone interessate a qualcosa ma quando tu gli fornisci un sacco di argomenti in quell'ambito perdono lo sguardo di insieme quindi diventano anche vanno anche ad antagonizzare saperi alternativi che un po è un po l'esplosione di quel campanilismo che anche l'università l'università abbiamo visto capito quella specializzazione che in parte è necessaria e in parte diventa un pericolo perché uno non riesce più ad avere il quadro generale in effetti lì è un continuo cercare di sfondare la propria bolla sia a livello del fruttore lì bisogna educare forse all'utilizzo delle nuove tecnologie che nella scuola sarebbe bello insegnare che esistono delle bolle che l'algoritmo proprio crea delle bolle che rischiano di confermare le tue credenze i tuoi giudizi e di farti credere che il mondo sia esattamente come pensi tu perché non ti fanno più arrivare informazioni diverse dalle tue dall'altro lato anche lo sforzo del creator del divulgatore di chi fa informazione quello di cercare in qualche modo di uscire da quella bolla che è una cosa molto difficile però perché effettivamente fai fatica a capire come fare ogni tanto succede ogni tanto a me capita sotto ai video di trovare commenti di persone che mi dicono guarda non ho mai studiato filosofia o non sapevo niente di argomentazione sono contento perché grazie a te sono riuscito ad avvicinarmi a questa cosa queste sono le soddisfazioni più belle insomma però sì c'è questo rischio di cadere in un bias di conferma continuo sì sì io credo che sia un po ne parlavo proprio stato a un incontro a milano la scorsa settimana che c'è stato l'influence day e sono andato a fare un discorso perché mi si chiedeva come dovrebbe essere la figura dell'influencer diciamo così la nuova figura dell'influencer e io gli ho fatto un ragionamento che provo a sottoporre anche te vediamo se ci porta da qualche parte dal mio punto di vista noi siamo in un'epoca dove tutto il pensiero prodotto dai mezzi di informazione anche da tanti influencer anche in ambito culturale un pensiero molto convergente cioè siamo in un momento storico dove si cerca di consolidare quella nicchia ok e dove moltissimi di noi dico di noi cioè quelli che lavorano su internet giocano sul rafforzamento della propria bolla ok questo è dovuto a tanti fattori uno su tutti il fatto che rompere la bolla è molto difficile però questo non deve farci dimenticare che in realtà la produzione creativa deve essere sempre divergente cioè deve deve comunque avere a che fare con la sorpresa il vero influencer è quello che dovrebbe in qualche modo sorprenderti di quello che tratta di come lo tratta dello strumento che utilizza del collegamento che produce solo che c'è tanta paura dal mio punto di vista oggi viviamo una grande paura del fatto che la divergenza comunque è un rischio che uno si prende il rischio anche di deludere le aspettative del pubblico la convergenza invece ci ci fa stare tutti tranquilli ok la convergenza della chiacchiera del chiacchiericcio di cui parlava ide che quindi del dico quello che si dice penso quello che si pensa e accontento le aspettative siamo in un'epoca in cui tanta gente sta accontentando un pubblico secondo te come si può uscire da questa da questa situazione allora io credo anzitutto che dovemmo riscoprire il valore della curiosità ma non solo da fruttori di contenuti ma proprio da creatori di contenuti secondo me una cosa che accomuna tutti i grandi divulgatori è quello di riuscire a incuriosire le persone su cose di cui non avrebbero mai pensato di potersi incuriosire io ho una formazione umanistica fatto liceo scientifico dire vero però poi una formazione umanistica ma a volte guardo dei bravi divulgatori di scienza e mi fanno appassionare di alcune cose di cui non avrei mai pensato di appassionarmi di chimica di fisica no quindi lì ci deve essere uno sforzo comunicativo però secondo me quindi il tutto si gioca sulla comunicazione su riuscire a pensare che tu devi riuscire a avere un appeal comunicativo sulle persone senza ingannarle però senza usare la parola per prendere e portarle da te ma per aprire porte anziché no per chiudere le porte che ti circondano la parola influenza è brutta infatti adesso quest'anno esploso il caso degli influencer ma l'influencer è proprio secondo me un concetto antifilosofico cioè l'influencer è quello che ti influenza quindi ti insegna a pensare in un determinato modo ti insegna a dire guarda quello che io ti sto dicendo è giusto quindi seguimi invece il filosofo è utilizza la maieutica no quindi dice no guarda che quello che ti sto dicendo io è da mettere in dubbio è quello che tu pensi è da mettere in dubbio è quello che gli altri ti dicono è da mettere in dubbio quindi cercare di utilizzare la comunicazione e la curiosità per esercitare per stimolare il dubbio quindi utilizzare i mezzi di comunicazione per dire guarda questa cosa qui di cui tutti parlano perché ormai è diventato un trend perché fa comodo parlarne perché c'è un'economia che ci gira attorno quindi anche tu se ne parli magari entri in quell'economia mettiamola in dubbio e metterla in dubbio non significa strancarla demolila magari metterla in dubbio significa poi convincersene in maniera più critica divergere come dicevamo ok sì però non sono d'accordo su quello che hai detto cioè nel senso provo provo a mettere un tassello in più io credo che socrati sia stato un grande influencer cioè nel senso che lui ha di fatto prodotto dei nuovi modi di vedere il mondo epiteto ok epiteto era palesemente uno che influenzava i propri allievi ha influenzato me ma tutto dipende da in cosa ti influenza perché se epiteto mi avesse detto guarda che tu su queste questioni devi pensare così sarebbe stata una cattiva influenza in realtà epiteto mi ha detto quando sei di fronte a certi avvenimenti della vita prova a usare questi strumenti ha avuto un'influenza fortissima cioè quello che secondo me perché io credo che la parola influencer è brutta più che altro per perché le persone che lo incarnano sono state spesso dei pezzi di merda cioè nel senso parliamoci chiaro ok purtroppo purtroppo gli esempi virtuosi nel mondo influencer sono veramente pochi e però in realtà io sono un po non voglio dire affezionato però secondo me è una parola che va ripresa perché l'influencer secondo me è molto o dovrebbe essere molto vicino al filosofo cioè qualcuno che ti dà un buon modello da applicare la tua vita ti influenza il problema è che oggi chiamiamo influencer uno che è influenced cioè quello che dicevi tu quello che vuole entrare nel mercato quello che vuole entrare in un trend non è l'influenzatore è l'influenzato da quel mercato ed è questo ciò che io da qualche tempo cerco di far capire che secondo me va bene essere un influenzatore di un buono stile di vita Valerio Rosso è un ottimo influencer sullo stile di vita Alessandro Di Concini è un ottimo influencer sul metodo di studio di pensiero io cerco di essere un influencer non per le mie opinioni ma per le argomentazioni che stanno dietro le mie opinioni ok quindi è un'influenza secondo me che ti spinge a usare la tua testa il problema è quando l'influencer invece è influenced è al posto di fare come epiteto ovvero produrre un trend a cui poi si lega una visione del mondo legarsi ai trend esistenti diventando soltanto chiacchiera io credo che il rischio in questo però sia io lo chiamo il rischio di Tarantino vai vai sentiamo Tarantino è un grande regista sì i tarantiniani sono i pessimi terribili terribili stessa cosa a volte succede con dei grandi filosofi Severino e i severiniani Nice e i niciani cioè Nice secondo me è stato mi chiedono mi piace Nice sì mi piace Nice però attenzione perché poi i niciani hanno fatto un discorso quindi è sempre così è un po' il dilemma forse del filosofo è quello di cercare di uno ha una buona idea la la divulga la la influenza e poi però questa idea c'è il rischio che venga storpiata che e qual è il problema lì il problema forse è che dovremmo fare un'educazione non tanto sull'idea in sé ma sul metodo di ricerca delle idee no per quello io poi dico quando a volte mi dicono ma ti occupi di filosofia e di argomentazione non dico di filosofia quindi di argomentazione perché l'argomentazione è il metodo no è il il software che sta alla base diciamo della filosofia quindi se io ti insegno solo le idee se faccio solo storia della filosofia sto facendo una galleria di opinioni come la chiamava Hegel no mi pare e invece io devo insegnarti le idee se reputo che influenzarti su quelle idee sia utile ma devo darti anche il metodo devo darti anche il software per poi prendere quelle idee e farle tue perché è inutile che io ti spiego il teorema di pitagora se non ti do gli strumenti matematici per capire come funziona del teorema di pitagora quello allora non diventa più matematica diventa un dogma il teorema di pitagora a cui devi credere non devi più capirlo e la stessa cosa secondo me succede con la filosofia se io leggo nice e lo prendo come un dogma e non ho più gli strumenti per capire il ragionamento di nice nice poi si trasforma nei niciani e la stessa cosa allora forse vale anche per gli influencer se io ho qualcosa da dire e lo dico senza però dare al pubblico gli strumenti per capire come sono arrivato a quella cosa lì magari sto dicendo qualcosa di molto importante di molto utile ma il rischio che si crea che si crei l'ideologia è dietro l'angolo certo certo sai questo è legato a questo è un punto interessantissimo su cui mi trovo molto d'accordo io credo che una delle problematiche del mondo degli influencer sia il fatto che c'è la nostra faccia cioè cos'è che voglio dire il discorso è molto ampio cerco di riassumerlo io sono convinto che noi istintivamente come esseri umani inizialmente prima di avere una cultura adeguata prima di avere degli strumenti critici adeguati finiamo per credere in ciò che ci somiglia ok a 12 anni 13 anni uno diventa religioso o ateo diventa religioso perché il catechista il prete o la propria famiglia che sono religiosi sta simpatico ok piace quel contesto divento ateo se invece sono magari come come ero io entri in antagonismo con quell'ambiente ok non è che hai delle vere ragioni per tu finisci per credere a ciò che ti somiglia dopodiché arriva la maturazione la maturazione il momento in cui dovresti allontanarti da quell'idea che ti somiglia navigare nel mare immenso delle opinioni contrarie delle opinioni divergenti dei modi di vedere alternativi e poi magari torni a quella tua idea ma a quell'idea tu sei legato non più perché le somigli ma perché l'hai capita ok questo è quella divergenza di cui parlavo tu convergi verso una somiglianza divergi per ampliare gli orizzonti e poi riconvergi ma con la consapevolezza che ti permette anche magari di mettere in discussione un processo dialettico è un processo esatto e su questo è che la vista la vista abbastanza bene ok l'ha anche descritta molto bene noi oggi nel mondo degli influencer abbiamo un problema che in questo processo dialettico c'è la simpatia e quindi tantissime persone finiscono per adesso faccio l'esempio stupido diventare terrapiattisti o terrasferisti perché la persona su youtube che parla di quell'argomento gli sta simpatica quindi tu hai accanto alla somiglianza dell'idea hai la simpatia di chi te la fornisce che non fornendoti le ragioni dietro l'idea rafforza quel bias di conferma e ti impedisce di fare la navigazione della divergenza capito e questo secondo me è un problema enorme del motivo per cui oggi per me l'influencer buono è quello che fa di tutto per stare sui coglioni al proprio pubblico come socrate come socrate essere taffani veri capito no questo è vero sono molto d'accordo credo che un'arma che abbiamo per evitare questo perché il meccanismo della simpatia è anche un po' biologico no cioè ce l'abbiamo è istintivo e probabilmente è utile in molte situazioni certo fidarsi di chi ti sembra affidabile è un bias in qualche modo è il miglior modo che abbiamo per resistere ai bias è conoscerli certo quindi se noi non sappiamo che cos'è un bias di conferma siamo i primi a cadere nella trappola che è il motivo per cui insomma a parer mio fare divulgazione su bias sulle fallagge argomentative su queste cose qui è il primo strumento che abbiamo per poi riconoscerle quando quando le vediamo e quindi dire ah non è che forse sto cadendo in un bias di conferma io quando c'è leggo un saggio e sono d'accordo al 100% con quello che c'è qualcosa che non va è come nei film dell'orrore la situazione troppo tranquilla e sai che poi capiterà qualcosa di orribile sì sì idem quando sono totalmente in disaccordo certo si deve essere qualcosa altrimenti è il mio cervello ha creato un distacco una vicinanza forzati e mi sta in qualche modo ingannando la schematizzazione mi sta impedendo di vedere l'argomento è un po' questa ecco la simpatia un po questo c'era emanuele vinasse che diceva lui negli anni negli anni 40 ha parlato di questa lui ha visto youtube prima di youtube perché a un certo punto lui scrive questa cosa non mi ricordo anche in che libro però lui dice il vero problema è quello della viseità cioè noi abbiamo questa idea che non so per esempio lui dice parlarsi vis a vis è meglio che non parlarsi via lettera ma questo in realtà è sbagliato perché perché in realtà il vis a vis comporta un elemento cognitivo fortissimo che quello della della viseità lui la chiama quindi il fatto che io vedo nel tuo volto qualcosa che impatta sulla mia comprensione di quello che mi dirai prima che le tue parole raggiungano la mia corteccia prefrontale ok e quindi io incontrerò la visione critica dei tuoi argomenti molto più tardi rispetto al come la mia emotività si è già creato uno schema questo su youtube è fortissimo già io me ne accorgo continuamente e quanto in realtà l'influencer ci gioca inconsciamente quando si gioca su quella parasocialità del tipo ma sì siamo tutti amiconi ma ci vogliamo bene si gioca su questa cosa che in realtà è perché è un riflesso condizionato inevitabile di questa cosa e io credo che siamo veramente in un'epoca in cui bisogna contrastare tutto questo perché quello di cui tu hai parlato è proprio minato alla base da questo concetto della viseità di questa parasocialità l'influencer deve essere qualcuno che torna a fare il tafano il problema di questo perché poi magari qualcuno può dire vabbè però alla fine si tratta di divulgazione di filosofia o di scienza ma è lo stesso identico problema poi nella politica io ho fatto un video qualche settimana fa in cui dicevo che il miglior modo per partecipare a un dibattito pubblico sarebbe farlo con una venda sugli occhi magari anche con un filtro vocale che non mi fa capire riconoscere la voce di chi sta parlando ci mettiamo meta quest e siamo a posto capito perché il problema è che noi spesso oggi non ascoltiamo quello che viene detto ma ascoltiamo chi lo sta dicendo certamente per simpatia per tifo per vicinanza e nella politica è così noi spesso non ascoltiamo le idee che una persona porta avanti gli argomenti che questa persona porta avanti ma ascoltiamo quella seguiamo quella persona quella bandiera e questo è forse il più grosso problema oggi del dibattito pubblico la personalizzazione del dibattito quindi la personalizzazione della politica prima che adesso è diventata personalizzazione del dibattito non ascolto più gli argomenti ma in base a chi sta parlando se sta parlando il politico che io ho votato allora sarà sempre giusto quello che dice io applaudirò alla fine di ogni suo discorso mentre se sta parlando l'avversario la prima ancora che finisca di parlare io sto già pensando a che cosa dire per attaccarlo e questa cosa succede in politica succede in famiglia succede a scuola a lavoro con gli amici e però dobbiamo renderci conto di questa cosa e pensare che se siamo in quella situazione in cui tutto ciò che dicono i nostri rappresentanti ci sembra giusto e tutto ciò che dicono i nostri avversari ci sembra sbagliato forse stiamo sbagliando qualcosa da noi statisticamente è impossibile impossibile è impossibile sai quando si dice questo perché ho fatto anche un video pochi giorni fa che parla più o meno di questo una delle obiezioni è ma è sempre stato così e io sono anche abbastanza d'accordo sul fatto che in politica bene o male la porzione di elettorato che ascolta valuta soppesa confronta è sempre stata molto minimale rispetto a quelli che dicono a me Silvio piace Silvio mi ricorda mio zio Craxi mi ricorda mio papà quell'altro è un simpaticone quella è bravissima simpatica vi dicendo ok quindi è sempre successo il problema non è tanto il fatto che questo sia sempre avvenuto in politica è che come dicevi tu questa cosa è colata in tutti gli altri ambiti è colata nei rapporti d'amicizia è colata nell'informazione ecco un ambito in cui questa cosa la vedi fortissima è l'informazione nella fruizione non solo nella fruizione dell'informazione da parte dell'utente finale ma nell'atteggiamento del giornalista io sono assolutamente certo che possiamo prendere decine di esempi in cui tu capisci che il giornalista a fine anni 90 era una cosa e oggi è un'altra e questo vale in tutti i campi dell'informazione quindi c'è un aumento di questo atteggiamento e la domanda da un milione di dollari è secondo te perché sta succedendo di fronte alle enormi possibilità di approfondimento di discussione dibattito che abbiamo oggigiorno cosa che è che sta scatenando questa cosa credo debba essere studiata da degli psicologi da degli esperti di social media di come internet funziona come internet affetta in qualche modo la nostra mente hai fatto un video di recente su questo che ci vanno le dementi sì esatto in qualche modo credo sia proprio il modo in cui fruiamo delle notizie che ci porta a questo la rapidità la numerosità dei contenuti il modo proprio il meccanismo di fruizione secondo me porta a questo ecco non vorrei cadere in un'iper semplificazione causale vedete un'unica causa che porta a questo effetto perché secondo me c'è un insieme di cause quindi sono dei fattori storici quindi una disillusione verso la politica tradizionale che ha portato le persone ad avvicinarsi anche perché mi viene da dire questo scusa se ti interrompo la fruizione forse nata di contenuti in realtà più che una casa potrebbe essere un altro sintomo capito cioè è un po' questa è la mia paura la mia paura è che spesso noi confondiamo questa cosa per la causa e quindi pensiamo che per esempio non fare il digital detox ci guarisce che non è un cazzo vero la causa è molto più profonda capito forse anche molto più drammatica secondo te qual è la causa qual è la causa allora la causa secondo me allora anche qua di nuovo il preambolo che hai fatto tu è giustissimo non c'è una causa ok però trovo che negli ultimi anni uno degli autori che io ho ripreso in modo fortissimo è Pascal ok io in qualche modo trovo che Pascal sia una lettura che oggi può aiutarci molto a inquadrare proprio il modo con cui noi viviamo questi aspetti perché perché ad essere aumentata è l'incapacità di introspezione e di sopportazione della solitudine è una delle cause fondamentali e secondo me questa è una causa psicologica pre-tecnologica che causa questa fruizione della tecnologia non credi che sia anche il modo in cui noi siamo sempre abbiamo sempre a disposizione tiktok i social che ci porti poi a una maggiore distrazione e quindi a un'incapacità cioè è un cane che si morde la coda è un cane che si morde la coda però di nuovo tiktok è un sintomo perché se io prendo David Foster Wallace per esempio visto che Infinity Jest l'ho utilizzato in modo abbastanza forte per l'ultimo libro mi rendo conto che già negli anni 90 e negli anni 80 questo è un aspetto molto presente allora mi sembra che di nuovo semplificando se devo parlare devo individuare una causa la causa sia il benessere cioè l'idea che il piacere corrisponde alla felicità perché in fin dei conti tu perché finisci per scrollare per quattro ore di fila tiktok o instagram lo fai perché ti sei convinto in cuor tuo che fuggire dall'annoiarsi che ti fa stare male che ti mette a disagio corrisponda all'essere felice non importa se poi alla fine di quelle quattro ore ti guardi allo specchio e dici sono una merda umana ok mi sento come se avessi mangiato quattro Big Mac ok non importa lo rifarai perché noi siamo culturalmente convinti che piacere leggerezza uguale felicità questo secondo me è di nuovo con tutte le consapevizie di quanto sia semplificatorio però è uno dei fondamenti del modo con cui fremo della tecnologia oggi provo a scavare ancora più in priorità scaviamo perché a volte mi chiedono come mai lo storytelling sia così diffuso e così efficace oggi e forse la causa di questo può essere simile alla causa del fatto che ricerchiamo moltissimo il piacere e cioè il fatto che perché come dicevi tu è una cosa comunque di lungo periodo che è arrivata da lontano non l'abbiamo sentita arrivare no no assolutamente credo che almeno in parte sia dovuto al fatto al crollo degli assoluti chiamiamola così che tutto in qualche modo si è iniziato con quella frase di Nietzsche per cui non esistono verità ma esistono solo interpretazioni e il relativismo che si è sviluppato successivamente e quindi il fatto di pensare che non esista una verità ci porta a puntare tutto sullo storytelling sulla narrazione se non c'è verità allora tanto vale che la mia verità, quello che io racconto sia fatto in modo migliore di quello che racconti tu e quindi da qui tutto il fatto di concentrarsi più sulla comunicazione efficace che non sulla comunicazione argomentata e la stessa cosa forse si ritrova anche in in questo cioè se noi non pensiamo più che ci sia una condizione che corrisponde in maniera assoluta in qualche modo al bene allo stare bene tanto vale allora tanto vale cadere nei piaceri è così se io penso che non ci sia più una forma di benessere che sia spirituale che sia qualsiasi tipo di benessere ma un benessere duraturo in qualche modo che va oltre l'individuo la carne e arriva a qualcos'altro allora io a quel punto ho la scelta di guardare in faccia il nichilismo e diventare pessimista cosmico oppure fare la scelta estetica di andare di piacere in piacere fin tanto che questa cosa aveva ragione chi ricorda non ti consuma ti porta alla noia ti porta alla e TikTok ti porta alla noia perché poi io vedo io spesso che fare con con ragazzi molto giovani che quindi sono anche nati proprio con i social e che TikTok proprio lo guardano per molte ore al giorno è una continua ricerca di un piacere è un continuo saltare da un video dopo l'altro che a un certo punto ti lascia con una noia e un'insoddisfazione totale sulla noia io non userei le parole la noia adesso ti spiego anche perché no perché la noia in effetti può essere costituttiva la noia è un contenitore ok sì sì è vero è una parola sbagliata è un contesto che poi ti porta al vuoto cioè quando tu stai 4-5 ore a guardare il video che poi ripeto dimentichi subito ti senti vuoto alla fine perché alla fine la noia prende la forma di ciò con cui la riempi hai detto un sacco di cose interessanti allora intanto vorrei dire quanto ti sta sui coglioni Nietzsche no no Nietzsche Nietzsche è un grande sto scherzando è la seconda abbordata no Nietzsche è un filosofo a cui penso spesso in realtà perché per me è un rapporto veramente di amore e odio da un lato credo sia stato uno dei grandi geni dall'altro poi appunto ciò che è venuto dopo di lui è vero è vero questa è la prima cosa però è una battuta dall'altro lato io sono hai citato Kierkegaard ed è molto interessante questa cosa qua perché proprio mi viene in mente la distinzione che lui fa fra l'uomo etico e l'uomo estetico ok l'estetica il Don Giovanni e via dicendo effettivamente noi abbiamo perso quell'elemento che in timore e tremore permette ad Abramo di fare il suo salto ok e sai molto spesso e credo che questo insomma lo condivida chiunque abbia studiato un po' di filosofia molto spesso stai lì e ti chiedi ma cos'è quell'elemento va bene Kierkegaard me lo chiama l'assurdo l'angoscia lo slancio folle verso questo rapporto assoluto con l'assoluto tutte formule però poi in concreto cosa è che vuol dire io credo che una delle problematiche della vita umana sia il fatto che per capire che cos'è quell'elemento tu devi passare attraverso alcune esperienze non c'è la teoria non può darti la concezione io ho Maester Eckhart ok Maester Eckhart è un'altra grande riscoperta dei miei ultimi anni e lo dico da ateo perché io non sono una persona religiosa assolutamente però Maester Eckhart io me lo son letto quando ero all'università ero al secondo anno all'università facevo filosofia medievale me lo son letto i sermoni tedeschi bellissimo testo ero molto preso da queste frasi tipo prego Dio che mi liberi da Dio ma donna santa che figo ma donna però poi stavo lì e quando lui parla del grunt del fondo di questo abisso interiore dicevo sì vabbè cioè lui che fa il mistico deve vendere più libri quindi poi in realtà cosa è che succede succede che nei dieci anni successivi vivi delle cose fai delle esperienze e poi a un certo punto ti trovi a dire ah di questo parlava Maester Eckhart ok ecco io credo che il valore se vogliamo parlare del valore anche della religione è quello del fatto che è un tipo di discorso umano che cerca di farti fare esperienza di quell'abisso prima che la vita te lo presenti in modo fortissimo davanti ok la religiosità la fede intesa in modo positivo è un po' questo in realtà il tentativo di darti quell'elemento che poi a un certo punto la vita ti farà vivere prima che la vita te lo presenti in questo modo tu riesci a trovare quella stabilizzazione a credere in una verità prima di importela con la forza fondamentalmente è questo secondo me che è il discorso che Nietzsche porta avanti cioè oggi ci manca questo aspetto la morte di Dio è la morte di quel discorso che ti permette di vivere l'abisso prima di viverlo in modo veramente devastante non so se in questo tu ci ritrovi un po' una cosa molto interessante io credo sì sono d'accordo non è solo secondo me l'esperienza di viverlo prima che che si presenti ma è proprio anche il fatto di crederci crederci non necessariamente da un punto di vista religioso anche da un punto di vista molto più concreto cioè penso alla politica ai giorni nostri credere nella politica cioè credere che esista un bene per la società che poi quel bene io posso pensare che sia una cosa e un'altra può pensare che sia un'altra però tutti e due abbiamo la concezione che esista quel bene verso cui dobbiamo mandare la società e poi lì dovrebbe intervenire il dibattito costruttivo che siccome noi siamo creature e non creatori non abbiamo la visione del bene e quindi mettiamo assieme i nostri punti di vista che forse confrontandoci troviamo un po' la strada e invece io ho l'impressione che proprio non ci si creda più e non è che ci si manca anche per tornare a Kierkegaard manca la scelta etica o la scelta religiosa ma manca anche proprio pienamente la scelta estetica nel senso che noi abbiamo perso quel Dio chiamiamolo Dio senza rendercene conto cioè noi oggi non siamo i Don Giovanni perché Don Giovanni è un personaggio eroico Don Giovanni è come l'Hakab di Moby Dick che fino in fondo dice pentiti no non ci penso neanche pentiti no il finale di Don Giovanni di Mozart è veramente il finale tragico di lui che di fronte al destino di fronte a questa figura della morte dell'oltre vita lui dice no io rimango Don Giovanni fino in fondo non mi pento di questa mia scelta non c'è questa consapevolezza noi ci troviamo a fluttuare non c'è l'eroismo di dire io colpisco quella cosa lì perché come Nietzsche no io la colpisco con l'eroismo sai perché sai perché questo perché in realtà tanto nella vita estetica quando in quella etica quando in quella religiosa sempre per stare nel trittico di Kierkegaard ciò che ti fa stare in un certo percorso è sempre comunque qualcosa di spiacevole cioè nel senso prima tu mi dici siamo convinti oggi di poter arrivare alla verità mettendo insieme le prospettive però guarda caso le prospettive che adottiamo anche quando siamo critici sono sempre quelle che ci sembrano più in qualche modo accomodanti cioè nel senso noi non riusciamo più a sopportare invece ciò che è abrasivo ok io ho questa cosa da mesi ok per me la filosofia è sempre di più lo è sempre stato però sempre di più un sapere abrasivo cioè quella verità lì tu non la raggiungi costruendola la raggiungi scavando perché dico questo questo ha delle implicazioni anche a livello proprio logico devastante significa che in qualche modo una verità una verità c'è ok sotto la coltre delle cose che ci raccontiamo è che noi non riusciamo più a sopportare quell'abrasione non riusciamo più a sopportare le prospettive che ci realmente infastidiscono le allontaniamo le tacciamo di follia di impossibilità e quindi poi in realtà ci convinciamo di poter costruire tipo con pezzi di Lego la verità più accomodante e poi in realtà ci crolla sempre tutto fra le mani capito un po' si è costruita questa cultura per cui ciò che mi critica mi sta facendo del male esatto questa cosa bisogna anche qui fare un'educazione alla critica educazione il fatto che lo studente che prende quattro si sente sconfitto è una verità in questo momento lo studente si sente veramente sconfitto e questa è una brutta cosa e va risolta però non può essere risolta togliendo la valutazione vogliamo entrare in queste forche caudine dai facciamoci male Eugenio dai finalmente in quel modo lì tu stai facendo in modo che lui rimanga su quel quattro non lo chiami più quattro lo chiami un maligno tu devi educare quel ragazzo a capire che quella valutazione non è un giudizio sulla sua persona non è che gli stai dicendo che è un idiota o che è un fallito gli stai dicendo guarda in questo compito ci sono molte cose che non hai capito cerchiamo di capire assieme e di costruire assieme educare sin dalla scuola il fatto che perdere ogni tanto è naturale e ci porta poi a costruire io una delle esperienze più formative che ho fatto nella mia vita è stata quella di essere rimandato è stato rimandato nel secondo anno di liceo in fisica ho fatto poi l'estate ho fatto corsi di recupero con un insegnante privato molto bravo che mi ha appassionato moltissimo alla fisica io da lì sono arrivato in quinta liceo che avevo dieci in fisica e mi sono iscritto a fisica all'università poi dopo un anno per una serie di altre ragioni sono andato a filosofia ma all'esame di fisica all'università di fisica ho preso 30 la domanda è cosa è andato storto da fisica a filosofia però non la faremo non la faremo non la faremo ma senza essere rimandato senza che qualcuno mi avesse spiattellato lì in un quarto mi avesse detto tu vieni rimandato io non mi sarei mai appassionato alla fisica non avrei letto dei libri di divulgazione scientifica molto belli che ancora portano in cuore non avrei non sarei andato a guardarmi dei film in qualche modo ho avuto anche la fortuna che quel quattro non mi è stato fatto vivere né dalla famiglia né dagli insegnanti come un fallimento ma come in qualche modo un ostacolo certo uno spigolo uno spigolo uno spigolo sul mignolo in qualche modo tu devi stare lì sentire che ti ha fatto male e dopo da quel male ripartire se noi togliamo gli spigoli eh guarda questo è questo è un punto fondamentale che ci fa tornare il discorso del piacere noi siamo in una cultura dell'iperprotettività che ha convinto anche la mia generazione cioè nel senso in realtà è proprio io credo che sia una delle gravi colpe della generazione dei miei genitori e dei nostri nonni eh che il male sia qualcosa di socialmente costruito capito cioè che tu con la cultura puoi evitare il male che è una cazzata di livelli straordinari perché il male esiste perché? perché la natura ti vuole morto cioè non c'è nulla non ci si scappa da qua il male la sofferenza esiste perché? perché perché in realtà tu non hai il controllo sulla tua vita e la cultura che non può mai diventare quella campana di vetro che ti fa percepire come sempre protetto ma che in realtà oggi usiamo così dovrebbe essere invece la preparazione a quegli spigoli tu il voto adesso di nuovo con una iper semplificazione quasi iperbolica però il 4 a scuola è la preparazione nel momento in cui nel tuo matrimonio tu verrai meno ai tuoi doveri ok e vivrai un momento di grave difficoltà è quel segnale che ti porta a dire io devo modificare il modo in cui mi relaziono a questa realtà senza questi spigoli che sono spigoli culturalmente preparati senza queste sofferenze che dovrebbero essere poi ovattate dal contesto sociale tu non puoi essere pronto poi a quello che la vita ti presenta e in questa iperprotettività noi abbiamo prodotto le condizioni per l'esplosione delle ansie sociali che oggi si vedono quando un ragazzo a 23 anni si trova a non passare gli esami dell'università quando si trova ad avere una relazione e quell'iperprotettività lo ha preparato al fatto che andrà sempre tutto bene poi la relazione va male e tu la vivi come un'ingiustizia universale questa cosa ti rende anche violento ti fa perdere il controllo cioè la società del piacere si trasforma velocemente in una società di un girone infernale capisci e questo secondo me è ciò che poi porta a tutto quello che dicevamo prima è una delle cause fondamentali è una causa molto radicale che infatti anche in psicologia è molto discussa e che è veramente veramente tosta da affrontare sì io credo che il problema filosofico fondamentale sia lì nell'aver perso alcune non certezze perché non erano non sono mai state certezze ma certe una fiducia in alcune cose e avendo perso quella fiducia essere caduti nei come dire in ciò che in qualche modo può fare da da contraltare sai come lo chiamo questa è una malattia è il ma chi me lo fa farismo ok cioè la malattia del ma chi me lo fa fare chi me lo fa fare di fare una fatica ok esercitare su di una fatica per raggiungere un obiettivo a dieci anni di distanza visto che tanto tutte le verità sono costruite ok chi me lo fa fare di sacrificarmi per questo mio amico adesso sacrifico il mio piacere per ascoltare non so la difficoltà di questo mio amico perché tanto poi non ha un valore in secolo della confidenza dell'appoggiare qualcuno e via dicendo e questo chi me lo fa farismo è anche alla base del fatto che non riusciamo più a costruire relazioni di lungo termine perché di nuovo una relazione di lungo termine significa che io faccio una scommessa mi prendo un rischio anche il rischio di soffrire però faccio questa scelta capito e questo immobilismo che è proprio direttamente correlato alla protettività di cui parlavamo prima è il motivo per cui poi passiamo così tanto tempo su questi social perché alla fine chi me lo fa farismo la conclusione è vabbè ma sto su questo mobile game per le prossime quattro ore sti cazzi che mi annoio sentendo la voce della coscienza che mi dice guarda che sei una merda guarda che hai preso quattro nella vita vecchio mio non la voglio ascoltare questo credo sia veramente radicale sì sì è il paese dei balocchi di collodi è veramente così veramente così e poi sai poi qual è la cosa la cosa veramente sicuramente che io queste cose le dico perché le ho vissute perché anche io sono stata una persona che per lungo tempo ha sprecato un sacco di tempo io ho sprecato un sacco di tempo su World of Warcraft ok io mi sono appassionato mi ricordo appena venuto fuori dal liceo il mio primo anno e mezzo di università ho passato una fracca di tempo su World of Warcraft per fortuna avevo un computer di merda per fortuna avevo un computer di merda vedi di nuovo se avessi avuto una esperienza più lubrificata ok più facile forse sarei diventato un dipendente cronico di quel gioco l'attrito del computer che si bloccava ogni 45 minuti mi ha salvato il culo oggi questi attriti qua invece non ce li abbiamo più perché è tutto facilissimo e perché manca l'educazione a queste cose quindi si arriva a quel punto che tutto ciò deriva dal fatto che non ci si occupa abbastanza anzi a livello politico nessuno al momento se ne occupa di quella cosa che dovrebbe essere un po' il cuore di tutto ciò che è l'educazione no bisognava lavorare forse su più livelli sì perché sì poi non si può lavorare solo partendo dal basso bisogna anche riuscire poi a risolvere il problema adesso in alto che non abbiamo tempo di aspettare due o tre generazioni però sei ottimista su questo? cioè nel senso ho visto i tuoi video dopo le europee a me non sembra che tu sprizzi ottimismo da ogni non ho avuto l'idea di una persona particolarmente ottimista su informazione e politica quindi ai livelli un po' più alti sul medio termine no poi l'ottimismo va declinato nel senso a livello di come andrà l'Italia nel giro di dieci anni non sono molto ottimista sul lungo termine in qualche modo ho uno sguardo ottimista ma che uno sguardo non è di ottimismo è di fiducia alla fine di fiducia nel fatto che se facciamo uno zoom indietro nella storia ci siamo sempre lamentati che le cose stanno andando male in realtà le cose sono sempre andate un po' meglio con poi qualche gradino che andava in giù e alla fine se noi guardiamo dai Neandertal a oggi il grafico è stato in crescita quindi ho abbastanza fiducia quando avremo veramente l'acqua al culo perché noi siamo gli esseri umani sono molto bravi a trovare una soluzione quando hanno l'acqua al culo ma devono veramente avere l'acqua al culo in questi giorni la qual culo ce l'abbiamo abbastanza la qual culo vuol dire avere potrebbe voler dire avere guerre avere morti avere sofferenze vere in quel momento lì credo che troveremo delle soluzioni quindi sul lungo termine lungo termine vuol dire che noi non saremo più qui ma sono quindi noi siamo i figli di mezzo della storia ci sta dicendo questo poi sai la storia è una cosa che noi come individui non viviamo cioè la viviamo indirettamente nel senso ma noi non viviamo la storia che stiamo facendo e quindi da quel punto quello per me è una grande cosa che mi fa fare nel senso che dico ok io non posso cambiare la storia posso fare la mia parte poi io sono un individuo una persona con determinate esperienze determinate idee e quindi cerco di vivere al meglio la mia vita nel contesto in cui la sto vivendo ti faccio una domanda complicata adesso perché fai quello che fai perché io ogni volta che parlo con qualcuno che si occupa principalmente di filosofia filosofia è il lusso dell'umanità ok nel senso è la cosa più superflua che si possa immaginare star lì a fare discorso il pensiero poi noi sappiamo quanto è fondamentale però e tu mi hai detto perché ce n'è bisogno però secondo me non si fa mai questa cosa qua soltanto per gli altri cosa che ti ha spinto a fare a scrivere questo libro anche il mazzo di carte delle fallacce cosa che ti spinge in questa ricerca perché questa è una cosa che mi interessa molto io credo che alcune volte la spinta lo stroben come lo chiamava il Faust di Goethe uno ce l'ha dentro in alcune cose e in alcune cose che fa quando le fa si rende conto che c'è quella spinta e quindi a soddisfazione non piacere nel senso di prima realizzazione ma proprio che una volta che poi l'ha fatta si sente felice ma felice non nel senso del piacere ma felice veramente io ho fatto parecchie cose insomma tra lo studio e i primi lavori e tutto insomma ho fatto vari percorsi però alla fine quella ricerca che è la filosofia uno ce l'ha un po' dentro credo non vorrei ridurla a una cosa che uno o ce l'ha o non ce l'ha perché probabilmente è anche dovuto un po' al percorso che io ho fatto però in parte credo sia una cosa che ha quel che quando uno riesce a a conoscere veramente la filosofia magari non per tutti ma per me è una cosa che rende quasi superfluo tutto il resto cioè la filosofia diventa da inutile a molto utile su una scala di utilità molto diversa quindi sì c'è una componente sicuramente politica in senso ampio nel senso che credo che questa cosa serva se io non lo credessi non scriverei un libro di argomentazione ma scriverei un libro di un altro argomento che magari mi fa più piacere leggere però poi sì c'è quella componente del fatto che io quando ho tempo libero se devo scegliere se leggere un libro o fare una partita a calcio alcun dubbio che leggerò il libro ho capito ho capito quindi una spinta comunque secondo te è abbastanza innata è una cosa se è innata non lo so in parte credo di sì ma lo dico anche solo giusto per non essere tacciato poi di strutturalismo nel senso che in parte è sicuramente costruita dalle esperienze che uno ha fatto dagli incontri che uno ha fatto dai libri che ha letto e sicuramente ci sono delle persone che conosco che non hanno fatto le mie stesse esperienze se le avessero fatte sarebbero brillanti filosofi un po' secondo me anche che ognuno di noi ha delle cose in cui è più ferrato ok e altre no è una spiegazione forse poco romantica no sai cosa allora io ti ho fatto questa domanda perché io devo dirtelo sono molto a me incuriosisce molto parlare con persone tipo non so una decina d'anni più giovani di me che si occupano di filosofia perché in qualche modo io devo fare i conti con il me stesso di dieci anni fa e ricordarmi quello che dicevo dieci anni fa ok perché per me questo decennio è stato molto importante perché in questi dieci anni ho scoperto i reali motivi per cui faccio quello che faccio ok e dieci anni fa è probabilmente che avrei dato una risposta molto simile alla tua quindi intanto bisogna farci una promessa tipo fra dieci anni bisogna rifarci questa domanda beh bisogna nel senso ti rifarò ti rifarò anche prima anche prima sì non è che adesso ciao ci vediamo fra dieci anni però fra dieci anni bisogna rifarsi questa domanda perché ciò che questa è una domanda che mi faccio molto spesso cosa spinge le persone a fare quello che fanno soprattutto quando è qualcosa di così perché io so perché il giardiniere che è venuto a mettere in posto il giardino fa quello che fa lo so perfettamente ok so perché non lo faccio io perché ho il pollice nero io ho qualsiasi pianta tocco muore dopo pochi minuti so perché non lo faccio però quando poi si tratta appunto non so di chi fa fisica teorica ok o chi scrive libri pensa quando quando Foucault diceva se ci pensate raccontare storie inventate è il comportamento più folle più impensabile che gli esseri umani portano avanti perché è vero è la cosa più controintuitiva meno pragmatica possibile eppure lo facciamo perché insomma lo facciamo anche in modo abbastanza abbastanza tenace sì e quindi ogni volta che qualcuno si occupa di filosofie vi dicendo soprattutto persone più giovani di me sto lì a dire io mi ricordo le risposte che davo a queste domande anni fa ok e poi sono cambiate queste risposte quindi dobbiamo riparlarne assolutamente per le cose cambiano di sicuro una cosa che mi piace molto ma anche mi mette molto in difficoltà a volte è che quando devi tipo devi spiegare a un bambino cosa hai studiato che cosa fai no è difficilissimo perché il non so l'avvocato riesce a spiegare che cosa che cosa vuol dire fare l'avvocato il giardiniere può spiegare esattamente che cosa fa nella sua giornata il pizzerio lo può fare questa si chiama pipo pipo questa si chiama ok questa è la nostra pianta di Cogito Studios pipo il medico lo può fare e da filosofia è forse l'unica disciplina che tra tutte le altre domande che si deve porre deve anche continuamente porsi che cosa vuol dire filosofia sì certo e quindi nel momento in cui ti trovi a dire ma che cosa vuol dire fare filosofia gli si apre un'intera branca della filosofia e questa cosa è molto difficile da accettare per chi non sa nulla di filosofia perché è un bruttissimo biglietto da visita non sapere dire che cosa stai facendo una risposta che forse è ingenua è che forse bisogna distinguere tra ciò che uno fa e ciò che uno è quindi io credo che anche un chimico possa essere un filosofo nel senso che uno fa il chimico perché ha quelle competenze pratiche di mettere assieme gli elementi e ottenere altri composti ma ciò che lo spinge a farlo forse è qualcosa di filosofico nel senso proprio di amore per sapere qualcosa di nuovo qualcosa quasi di odisseo e quindi anche il filosofo poi alla fine fa qualcosa fa un lavoro che magari parla di filosofia però io ti so dire perché ho aperto quella pagina ma io non sono quella pagina quello è quello che faccio poi ciò che sono è io credo che questo è un punto molto interessante credo che quello del filosofo sia rispetto alle altre figure molto più essere che non fare cioè nel senso come diciamo prima si fa storia della filosofia si fa teoria dell'argomentazione ma poi effettivamente quando filosofia è una cosa che è inscindibile da quello che è sono degli idraulici che magari sono che fanno gli idraulici ma magari sono dei filosofi una volta ho avuto un idraulico poi ci sono delle persone che fanno i professori di filosofia scrivono libri ma che non sono mi ricordo mi ricordo una conversazione una volta nella casa vecchia ho avuto un idraulico perché avevo un problema a casa e siamo lì a chiacchierare quando lui scopre il lavoro che faccio comincia a parlarmi di Dio di metafisica e tutto quanto a un certo punto gli ho detto guarda questo è giocare sporco gli ho detto perché tu sei idraulico puoi fare il filosofo io che sono filosofo non posso fare l'idraulico perché se no mi arrestano perché faccio dei danni incredibili quindi c'è questa c'è questa disparità io guarda negli anni non c'è nulla da fare adesso dico una cosa che va bene in realtà ho già ripetuto altre volte però credo che la filosofia sia inscindibile dall'esperienza della morte cioè per me la cosa veramente quando uno mi chiede a me è capitato di fare un corso di filosofia per bambini non me l'hanno più fatto fare perché quando un bambino ha chiesto ma cosa che fa il filosofo io ho detto impara a morire però in realtà non è una cosa macabra si stava bene in un film di Woody Allen esatto esatto in fin dei conti io sono cioè la frase che ancora oggi mi convince di più che definisce la filosofia è quella di Seneca filosofare è imparare a morire che non significa tirarsela significa creare quel sapere che ti prepari in ogni momento ad affrontare a testa alta la fine ed è questo secondo me la filosofia io l'ho capito negli ultimi anni io ho capito che ho fatto mi sono innamorato della filosofia perché ero spaventato dalla morte molto spaventato dalla morte e ho dovuto fare i conti con quella paura e la filosofia è stato il sapere che mi ha aiutato a fare i conti con quella paura non a superarla a farci i conti e alla fine leggendo anche io trovo che ogni filosofo che qua sta alle mie spalle in qualche modo questo elemento ce l'abbia in modo fortissimo ed è per questo che dicevo prima di nuovo devi fare certe esperienze per arrivare a quello che Meister Eckhart dice perché se tu non hai mai vissuto lo spigolo degli spigoli che è la morte lo spigolo madre ok alla fine dei conti ti sentirai in un ambito dove la domanda sul ma chi me lo fa fare sarà sempre preponderante ed è per questo che la società del piacere è una società che ha eliminato completamente il discorso sulla morte oggi noi non ragioniamo sulla morte non ci piace parlare di morte perché la morte è ciò che annulla il piacere di fronte alla morte il chi me lo fa fare è completamente inutile anzi dannoso invece una persona che non pensa alla morte può pensare ma chi me lo fa fare su questo sono molto d'accordo il fatto che la filosofia sia un interrogarsi sulla morte a volte emerge esplicitamente da Platone a gli storici a Heidegger moltissimi hanno avuto il centro della morte però credo che anche oggi ad esempio perché oggi molti filosofi si interrogano sulla coscienza sul problema della coscienza secondo me è un po' perché la coscienza è quell'ultima possibilità che abbiamo per pensare che ci sia qualcosa che va oltre assolutamente il corpo e che quindi potrebbe non siamo ancora platonici assolutamente quindi non la chiamiamo più anima però ci interroghiamo ancora su queste cose e guarda caso cos'è la coscienza la coscienza è proprio il confine ultimo prima del niente cioè nel senso alla fine dei conti non voglio essere ripetitivo però la domanda sulla coscienza è una domanda sulla morte la domanda sulla coscienza è la domanda ma questa cosa che sento di essere si spegne e basta o ha una sua realtà autonoma ogni domanda filosofica delle varie epoche ha a che fare con questo tema e questa una cosa che aggiungo è che in questo purtroppo la filosofia si è ha un po' perso il suo scopo iniziale ho letto quest'anno che era lì a ingiallire sullo scaffale da troppi anni esercizi spirituali e filosofia antica di Piedadò che mostra come la filosofia fino al medioevo sia stata non solo quello che noi oggi leggiamo quando leggiamo Platone e cioè gli scritti in cui ci si interroga su il mondo il bene ma assieme a questi scritti c'era anche tutto un insieme di pratiche di vita quindi uno che entrava in una scuola filosofica oltre a ragionare su che cos'è la forma politica perfetta faceva anche tutta una serie di esercizi di meditazione di esercizio di svuotamento di distacco poi con l'avvento del cristianesimo il cristianesimo appreso dalla filosofia ciò che era la teoria e invece tutto ciò che era la meditazione gli esercizi spirituali sono diventati gli esercizi spirituali cristiani quando poi il cristianesimo è stato fatto fuori dalla porta la filosofia è rimasto solo la parte quindi si è persa quella parte lì però in effetti siccome è l'interrogazione sulla morte l'interrogazione sulla morte è centrale credo in tutte le persone cioè tutte le persone prima o poi per quanto ci scampi si fanno alcune domande l'avere quella quella capacità di portare avanti un esercizio cioè la filosofia non è una cosa che si scrive si studia ma che si esercita è un esercizio quindi è una cosa che uno è ed è una cosa che uno esercita e quindi bisognerebbe anche forse tornare per capire bene che cos'è la filosofia a non solo a parlarne esercitarla a fare il come che diceva Ninchel lozioso raffinato nel giardino del piacere che va là e prima mi leggo un po' di Kierkegaard poi mi leggo un po' di Kant ma che fa filosofia nel senso proprio che esercita degli esercizi di imparare a morire alla fine ecco guarda che è quello alla fine io mi sono accorto del fatto che se tu se tu fai questo riesci anche a dire qualcosa di significativo altrimenti rimarrà una pura teorizzazione rimane la filosofia chiusa nell'accademia e oggi c'è un bisogno immenso secondo me di persone di figure che ti fanno ragionare sulla morte anche perché poi se tu guardi è molto paradigmatico oggi quando si sente parlare di morte si sente parlare di morte perché non so Jeffrey Bezos che fa il suo laboratorio per allungamento della vita e c'è quell'altro come cazzo si chiama quello che si è fatto con due milioni di dollari tutto il il discorso come si chiama Fede? Johnson no Brian Johnson una roba del genere anche quello allungo la vita infinitamente tutte queste cose qua e guarda caso sono tutte cose che hanno a che fare con il non pensarci l'allungare che è proprio secondo me è quello che potrebbe essere definito uno spirito del tempo Brian Johnson è l'impossibilità ho visto anche dei suoi video per me è un delirio io ho visto dei suoi video e ho detto ma questa persona delira completamente e se tu guardi i commenti sotto a questo non so se lo conosci no lui ha fatto lui ha creato questo metodo che unisce alimentazione esercizio fisico scienza metabolismo e via dicendo ha speso due milioni di dollari o spende due milioni di dollari ogni tot per allungare indefinitamente della sua vita ok ha un canale youtube seguitissimo io ho sentito i suoi video per me è un delirio totale anche perché poi nell'inseguimento della ammortalità cos'è che ti perdi ti perdi il fatto che tu non puoi prenderti più nessun rischio cioè se io spendo due milioni di dollari all'anno per allungare la mia vita col piffero che esco in strada ci mancherebbe anche quella capito ed è ed è proprio lo spirito del tempo secondo me cioè se oggi devo dare se uno mi chiedesse qual è proprio il fulcro di tutte le cose che abbiamo detto da TikTok al piacere dicendo stiamo scappando come non mai dalla nostra mortalità e questa cosa cresce ogni giorno di più ed è perciò sì credo che sia fondamentale tornare a dire guarda che la filosofia è un sapere fondamentale perché è il sapere che meglio di tutti ti fa ti prepara al fatto che comunque anche se sei Brian Johnson morirai e visto quello che è successo all'inventore del jogging è più probabile che Brian Johnson muoia prima di me cioè nel senso capito e credo che sia un po' questo ed è abbastanza angoscioso secondo me vedere quanto scappiamo continuamente dalla morte un po' l'abbiamo sempre fatto forse mi viene in mente un aneddoto un papa adesso non mi ricordo se fosse Innocenzo VIII comunque il papa prima del papa Borgia che adesso non ricordo quale fosse che comunque era un papa quindi uno che non dovrebbe aver avuto paura di morire nel senso che comunque e lui dovrebbe sapere dove va all'inferno forse proprio per quello che aveva paura di morire forse essendo un papa del cinquecento proprio di quel periodo so perfettamente dove finisco nel culo di satana lui faceva fare delle trasfusioni di sangue di bambini oh beh insomma è una cosa che si fa il recessore dell'adenocromo insomma fra una partita e l'altra di fortnite perché poi gli si è diffusa la voce che lui bevesse sangue di bambini ma quella è una fake news però si faceva fare probabilmente queste trasfusioni di sangue di bambini perché pensava in questo modo di allungare la sua vita quindi in qualche modo c'è sempre stato questo desiderio di immortalità ma dove lo prendeva il sangue di bambini cioè nel senso il punto è credo dai bambini dai bambini ma in che modo era la modalità figata del problema che poi è una fake news è fatto che la beveva c'era questo l'ho sentito perché ho sentito proprio di recente questa cosa che smontavano questa fake news per cui beveva il sangue di bambini ma raccontavano appunto che si faceva lui aveva nonostante la chiesa romana al tempo fosse molto antisemita lui aveva i migliori medici ebrei certo perché comunque quando quando si trova il sangue di bambini vanno bene anche gli ebrei e questo medico appunto prelevava il sangue a questi bambini è che poi è una fake news il fatto che la beveva però te lo immagini tipo con la cannetta e fa cioè nel senso magari non beveva calici però un assaggino l'avrà dato in effetti chi chi riesce ad affrontare la sua limitatezza con il sorriso per noi è sempre qualcosa di scioccante sì sì è vero guarda per me è stato adesso vabbè è una persona che conosciamo entrambi però non credo che gli faccia nessun problema ti dico dopo di chi sto parlando però è un professore universitario che a un certo punto per me è stata una grande lezione perché gli è stata diagnosticata una malattia ok per cui lui era stato assente dall'università per molto tempo ok non si sapeva perché quando poi è tornato io sono andato a trovarlo preoccupato gli chiedo ma cosa è successo e mi fa sai è venuto fuori da una malattia una malattia che mi mette sempre a rischio repentaglio della vita e io ero angosciato ma come cazzo me lo diceva col sorriso sulla faccia e poi mi guarda e fa questo non mi può che spingere a vivere ancora meglio il tempo che ho a disposizione che sia un giorno un anno vent'anni e questo mi dà ancora più spinta e io sono rimasto e lì è stato un momento in cui mi sono accorto di quanto io avessi paura della morte e di quanto non avessi mai ragionato avevo 23 anni quando c'è stata questa cosa qua avevo già vissuto delle esperienze di morte di qualcuno ok anch'io c'ero arrivato vicino anni prima però mi sono reso conto e ho detto cazzo ma io sono veramente spaventato dalla morte e lì mi è scattato qualcosa è stata una lezione importante perché ho visto una persona affrontare il limite ultimo della sua vita e l'ignoto con il sorriso e addirittura con la spinta a dire devo mettercela ancora di più cioè devo viverla ancora più pienamente importantissimo sono delle cose infatti ma guarda io non credo che sia un caso che due delle persone più influenti del stadio occidentale ma non sull'occidentale siano Socrate che la parte più scioccante di Socrate è quando vanno lì a trovarli e dicono guarda che puoi scappare te lo fanno fare ti hanno arrestato e lui dice ma perché dovrei perché dovrei no e affronta quella morte con grande consolando i suoi allievi consolando i suoi allievi dicendo no siamo quella famosa frase siamo debitori di un gallo ad Asclepio e come se no bene tutto quello che è arrivato fino a lì me lo prendo e bene e l'altra grande figura importante che è stato un grande filosofo è Gesù prima della morte in croce della passione c'è una scena quest'anno sto leggendo tutti i Vangeli per l'interno sei in quel momento della vita si scoprono delle cose bellissime prima della passione c'è una una parte in cui lui sta pregando nel Gezzemani nel Lotto degli Olivi e gli si avvicina a Pietro allora i discepoli sono meravigliosi perché sono la spalla comica dei Vangeli su cui non capiscono mai niente fanno sempre le figure di merda peggiori si avvicina a Pietro che poi sarà no quello sulla cui Pietra no è lui e si avvicina proprio con questo grande timore della morte con questa grande paura gli dice no ma senti ma facciamo qualcosa facciamo in modo che ti salvi e lui gli disse tu ragioni come gli uomini non come Dio ma dietro a questa frase che poi comunque ha un significato cristiano c'è proprio quel Socrate che dice ma guarda ma tu stai ragionando come uno come un filosofo non come uno che sa che deve morire e che quello è il suo destino è sempre molto affascinante e questa cosa poi andiamo verso la conclusione perché ci saranno anche alcune domande sicuramente questa cosa a me ha sempre fatto riflettere a quanto in realtà la la vera domanda intorno al morire al limite della morte non abbia a che fare tanto con la religiosità cioè nel senso dici Gesù dice questa cosa non ragioni come Dio però in realtà in quella parte almeno il modo in cui io ho saperevissuta non è tanto ragionare come Dio nel senso come il Padre Eterno che ha creato ma è ragionare come quello sguardo più onnicomprensivo sulle cose ok il sub specie di Meister Eckhart è quell'abisso esatto eccolo lì è il grundo di Meister Eckhart di quello di cui parla perché alla fine dei conti e torna il discorso dell'abrasione tu è soltanto affrontando la domanda sui limiti sulla morte sulla tua limitatezza sulla tua fallibilità che puoi togliere di mezzo quelle maschere che il tuo primo periodo nella vita quello iperprotetto quello educato quello adolescenziale ti ha messo addosso e in quell'abrasione a un certo punto scopri il tuo carattere quello che hai dentro e quella cosa è angosciante non è mai piacevole una cultura del piacere è quella che ti terrà sempre distante da quell'aspetto della tua vita in una cultura del piacere tu non scoprirai mai chi sei perché di fronte a qualsiasi possibile abrasione ci sarà qualcuno che ti dice ma chi te lo fa fare ecco io credo che sia necessario tornare a andare in quella direzione e tornare a dire abbiamo bisogno di filosofi di influencer di persone che forniscono motivazioni per l'abrasione senza quello saremo niente per noi stessi sì su questa cosa e concludo con questa cosa io credo che solo in parte possiamo farlo con con le parole io concludo il libro nei ringraziamenti dicendo che su alcune cose non si può parlare su tante cose tanti insegnamenti non vengono dati tramite l'argomentazione è quello che diceva quella che è stata una mia riscoperta dell'anno scorso che è Wittgenstein quella abusata e famosissima frase ciò di cui non si può parlare bisogna tacere sono alcune cose che non si possono spiegare insegnare parole ma o con l'esperienza oppure secondo me con l'esempio sono d'accordo grande insegnamento lo dai non spiegando ma essendo tu l'esempio da seguire quindi forse c'è bisogno di influencer che siano esempi da seguire sono d'accordissimo sono d'accordissimo Eugenio prima di passare alle domande una domanda di rito per tutti gli ospiti che sono qua per la prima volta tre libri che per te sono stati veramente importantissimi da formazione allora direi visto che ecco non necessariamente filosofici cioè romanzi qualsiasi cosa ok quello che uno che uno che cito sempre e che che senz'altro lo è stato è la critica della ragione pura ho fatto anche il video ieri ma per puro caso la mocca la mocca la critica della ragione pura è in generale Kant ma la critica della ragione pura in particolare ecco non lo suggerisco ovviamente a chi non sa la filosofia se non me la tirano dietro però secondo me è un libro di una lucidità incredibile e che rispetto a tante filosofie che sono state che al tempo erano molto interessanti ma che poi la scienza ha in qualche modo superato Kant ci aveva visto lungo e su alcune cose è ancora oggi molto attuale e ancora oggi da riscoprire perché da un lato noi dobbiamo capire l'importanza dell'esperienza nella conoscenza dobbiamo capire l'importanza di quelle strutture che sono nella nostra mente della conoscenza e poi per non fare per essere Kant e non Kantiani non dobbiamo dimenticare il no u meno se non diventiamo dei relativisti un altro testo sempre di filosofia perché mi è venuto in mente prima che per me è stato che non esagero se dico che mi ha cambiato la vita è un libro che non ho mai citato nella mia parte non ho mai fatto un video su quello perché ho un rapporto quasi no che ho paura di di sminuirlo di renderlo qualcosa so che anche tu lo ami molto è l'etica di Spinoza ah beh c'è il senso mamma mia io quando ho finito l'etica di Spinoza ho cambiato molte cose ho fatto molte scelte nella mia vita e l'etica di Spinoza è uno di quei libri che seppur non parlandone parla di morte della capacità appunto di vivere sub specie eternitatis comprendere la tua vita attraverso uno sguardo che non è quello istintivo e primario mamma mia quello è incredibile la cosa incredibile per me nella lettura di quel libro è stato che è un libro molto grigio nella forma cioè demore geometrico demostrata quindi la sioma il corollario la conseguenza uno due scritto in maniera molto poteva essere un libro noiosissimo però è capace di emozionarti e di fattigare la pelle d'oca in certi momenti c'ha delle parti veramente la pelle d'oca guarda che c'è un'emozione dentro e peraltro posso dire si sente tutto il vissuto di Spinoza cioè ci si sente proprio è un libro è un libro inspiegabile per me perché è un libro della struttura iperrazionale che dentro ha un'intera vita e che tu se conosci la vita di Spinoza questa cosa qua emerge proprio è un testo meraviglioso è un testo in cui anche nelle parti che possiamo dire tranquillamente non condividerei però porca miseria è straordinario veramente straordinario ed è un testo ma anche che ti fa capire come puoi arrivare a certe conoscenze certe esperienze quasi intellettuali tramite la ragione arrivare a delle esperienze che superano in qualche modo la ragione o che riguardano la ragione proprio come la intendeva Kant quindi non come l'intelletto ma quella cosa che in qualche modo comprende tutto come terzo cito un romanzo vai avevi tanti da citare però è un romanzo che è un romanzo forse a cui ripenso più spesso e secondo me è io odio la parola capolavoro però questo è un capolavoro ed è Il castello di Kafka il castello di Kafka è un libro bellissimo sotto tanti punti di vista è un libro divertente perché ha quel grattesco kafkiano che ti ti fa solo ridere non ti fa ridere ti fa solo ridere ti fa avere quella visione è molto ironico e poi a me piacciono molto quei romanzi che riescono a comunicare in un'immagine una sensazione che sennò ci vorrebbero 3.000 pagine per comunicare è una cosa che cerco nel mio piccolo di fare anche nei video trovare un'immagine che in qualche modo possa riassumere un concetto e Il castello di Kafka è un'immagine potentissima in cui puoi trovarci sempre nuove letture nel senso spesso il castello viene visto come il potere e quindi il libro di Kafka è la metafora del rapporto tra l'individuo e il potere questa lettura secondo me è sicuramente giusta ma è molto parziale cioè quel castello è una cosa che significa tante cose quella ricerca di andare verso quel castello e non trovare mai quel castello quel castello è noi stessi è Dio è la verità è quell'assoluto il grundo di Moistra esatto e continuo a cercarlo mi piace molto anche perché a me piace nei romanzi cercare il cuore del romanzo quindi quando leggo Moby Dick interrogami su che cos'è la balena ma quando uno legge il castello fa la stessa esperienza del suo protagonista cioè si avvicina a quel cuore del romanzo e poi non riesce mai a raggiungerlo davvero c'è sempre qualcosa che gli sfugge e quindi in qualche modo è una domanda che secondo me stimola moltissimo poi la riflessione è una domanda a cui sono molto legato molto bene beh tra libri tra libri di tutto rispetto quindi dai poi avremo modo di chiacchierare anche dopo a cena di altri libri allora io ringrazio Eugenio per questa chiacchierata che è stata una chiacchierata a fiume molto bello insomma spero che sia la prima di una lunga serie di collaborazioni e ringrazio voi che avete ascoltato indifferita perché adesso chiudiamo mentre se volete recuperare le domande risposte a fine live dovete abbonarvi maledetti abbonatevi al canale e sentite anche il Q&A se siete in live quindi non uscite perché adesso rispondiamo a qualche vostra domandina bene grazie caro grazie a tutti e sotto trovate il libro le carte sulle fallacce i canali di Eugenio per conoscere il suo lavoro e ci rivediamo alle prossime dirette ciao grazie a tutti